Buongiorno e bentrovati. Allora, qualche giorno fa ho fatto un video che ho chiamato Disastri all'opera, che è andato molto bene, oltre le più rose aspettative, migliaia di visualizzazioni, però ovviamente, a parte questo, mi sono beccato anche tutta una serie di critiche. Però questo fa parte del gioco, nel senso non sali su un palcoscenico e non fai video su YouTube se non sei pronto anche ad accettare una serie di critiche. La critica principale era, ah, facile criticare, ma la mia non era assolutamente una critica, tutt'altro era lo spiegare, soprattutto a chi su un palcoscenico non ci è mai salito, che le cose che possono andare male in teatro sono tantissime e la statistica vuole che qualcuno prima o poi vada male e che quindi comporti un disastro, quindi nel senso un problema scenico, musicale o di luci o quant'altro. A dimostrazione del fatto che non era assolutamente una critica, oggi vi parlo dei miei disastri all'opera, cioè delle cose in cui ero io sul podio, che sono successe, quindi non del relato, non per sentito dire, non per letto su qualche famoso testo, ma quello che è successo a me. Allora, partiamo con un Nabucco, recito di Nabucco, con Rebecca Lockhart, che faceva Bigail. Allora, Nabucco è un'opera molto pericolosa perché è un'opera facile, ovvero sia, per il direttore intendo. Allora, premesso che non esistono in realtà opere facili da dirigere, partendo da questo assunto, Nabucco non è certo un'opera difficile, è un'opera di ordinare amministrazione, che oltretutto al direttore può dà anche delle belle soddisfazioni. È un'opera che fa sempre piacere dirigere e che non comporta un eccessivo dispendio di energie psicofisiche per farlo. Per cui, recita all'aperto di Nabucco, c'erano due enormi braceri, enormi, adesso faccio qui il gesto, ma in realtà erano molto più grandi, due enormi braceri ai fianchi del palco. Ovviamente questa cosa al chiuso non si farebbe mai, ma in una recita all'aperto è consentito avere anche fiamme libere e avere braceri. Questi braceri naturalmente non avevano la fiamma libera, avevano il fumo, tipo l'incenso, insomma qualcosa del genere, adesso non so, su del carbone, non chiedetemi che cosa esattamente ci fosse nel bracciere, comunque erano braceri che avevano la braccia, si chiamavano braceri apposta, e il fumo fondamentalmente. Il problema qual è stato? Che durante la recita, serale, estiva, eravamo in agosto, insomma comunque in piena estate, cambia il vento e cambiando il vento cambia ovviamente la direzione del fumo, quindi se all'inizio dell'opera il fumo andava tranquillo, in verticale per i fatti suoi, e non dava affatti di nessuno, con questo cambiamento di vento tutto il fumo va addosso ai cantanti, e in particolare va addosso alla povera Rebecca Lockhart, oltretutto nel momento più impegnativo della sua cabaletta, che infatti non riesce a fare assolutamente come la sa far lei, e per quanto è brava lei, ma insomma ovviamente nessuno ha potuto fargli una colpa, sta poverina si è trovata investita da una nuvola intera di fumo e non è riuscita a cantare bene, ma ovviamente non può esserle imputate in alcuna maniera. Sempre nella stessa recita cambia il vento e cambia anche drasticamente la temperatura, per cui a un certo punto dirigendo col frac generalmente non è mai troppo freddo, anzi spesso d'estate hai caldo, quindi magari molte volte si dirige con la camicia coreana, o con altri outfit, però in quel caso avevo il frac, che all'inizio dell'opera era pesante ed era piuttosto caldo, se non che nell'ambito dell'ultimo atto la temperatura non scende, precipita, e sta di fatto che io chiudo l'ultimo accordo e sento un applauso veramente miserrimo, mi giro e delle mille passapersone che c'erano quando ho attaccato l'ouvertura, alla fine dell'opera non era rimasta forse una trentina al massimo, nel cui insomma c'è una scena molto messa in cui riusciamo a fare i ringraziamenti davanti a poche decine di persone coraggiose che non rimaste, nonostante il freddo cane che era venuto, perfino mia moglie ha preso se n'andate, quindi figuratevi un po'. Sempre Nabucco, un'altra produzione invernale, un problema classico di Nabucco è l'idolo infranto, cioè c'è questa scena delle finali in cui un fulmine colpisce l'idolo, l'idolo dovrebbe andare in mille pezzi, e questo dovrebbe essere la rivelazione divina, e va bene, ogni regista la interpreta come preferisce, ogni spettatore ci vede quello che vuole, ma insomma, poi d'altrutto Nabucco, vuol dire, di storico c'è più niente che poco insomma, però insomma è un'opera, è un racconto di fantasia, quindi va bene tutto. La scena dell'idolo infranto è il gran finale dal punto di vista scenografico dell'opera, funziona tutto bene se non per il fatto che quando l'idolo si deve infrangere c'è prima un boato, un boom, poi arriva un fulmine, quindi un effetto luci, e l'idolo si infrange e va in mille pezzi. Tutto bene se non fosse che per un problema con i macchinisti, con i tecnici, non so esattamente cosa sia successo, il boom si sente con congru anticipo, ma ancora peggio, il lampo che dovrebbe distruggere l'idolo arriva con grande anticipo e in tutt'altra zona del palco, per cui c'è questa scena in cui c'è, immaginatevi, il fulmine è qui e qui l'idolo che si infrange completamente al buio tra l'altro, quindi insomma veramente una scena bruttarella, via. Ma queste scene, come dire, quando stai dirigendo, vabbè, insomma, le guardi, le vedi, non dipendono da te e alla fin fine non cambiano niente o quasi niente di quello che devi fare per portare avanti lo spettacolo. Ben altra cosa è quello che mi è successo durante un Barbieri di Siviglia. Allora, era una lunga tournée di Barbieri di Siviglia, forse una ventina di recite in giro per l'Italia e per la Svizzera, doppio cast, tre settimane di prove, questo lo dico per specificare che non è che certi accadimenti succedono perché si è provato poco o per impreparazione, perché molte volte certe cose possono andare male e vanno male. Per cui dicevo, doppio cast, Conti d'Alma Viva, uno, un cantante, un tenore che conoscevo da tanti anni, con cui ho fatto tantissime produzioni, assolutamente affidabile, bravo, eccetera, eccetera, più un tenore giovane, spagnolo, che stava debuttando il ruolo. Forse era proprio il suo debutto assoluto, se dovessi scommettere qualcosa, anche bravino, devo dire, però, insomma, al debutto assoluto. E tutti sanno che al proprio debutto sei molto teso, o tesa, o come volete dire. Per cui, molte volte, la tensione fa brutti scherzi. E a lui ne ha giocato uno particolarmente sgradevole, perché lui, praticamente, è entrato in scena, il Conte d'Alma Viva entra in scena e la sua prima frase è Fiorello, holà. Fiorello risponde, signor, son qua. E poi si attacca con il resto della... Si parte dal recitativo e si parte con la parte strumentale. Questo tenore, al debutto, ribadisco, quindi gli diamo assolutamente il beneficio, il beneficio di aver... di essersi spaventato e di essere stato preso dall'emozione, che cosa fa? Entra con la frase sbagliata. Cioè, entra e non dice Fiorello, holà, ma dice Fiorello di... La vedi? Che è una frase di 40 pagine dopo. Allora, la cosa di per sé sarebbe stata facilmente risolta se quella testa di rapa di Fiorello se ne fosse fregato della frase sbagliata del Conte e avesse detto la sua frase, saremmo andati via diritti per la nostra strada. Invece, anche Fiorello sbaglia, si fa trascinare dal Conte e fa quindi il suo intervento di 40 pagine dopo. Per cui, io mi trovo completamente che, oltretutto, in quel punto avrebbe dovuto partire partire l'orchestra e invece nella parte precedente bisognava continuare ancora con il recitativo. Veramente un problema gigantesco, un macello in orchestra che non vi dico, metà dell'orchestra che sono una cosa, metà che ne sono un'altra. E questo alla prima recita, dopo tre settimane di prove, insomma, quindi dopo aver provato e riprovato e riprovato e riprovato e vi assicuro che queste sono situazioni in cui un direttore orchestra perde veramente degli anni di vita. E questa è anche la ragione per cui io non ho mai diretto l'opera a memoria. Benché ci siano tantissime opere che io potrei dirigere tranquillamente a memoria, non lo faccio mai per questa ragione. Perché siccome so che c'è sempre qualcosa che può andar storto, il problema non è ricordarsi le notte o ricordarsi gli attacchi o ricordarsi tutto quello che ho scritto sopra di tour. Il problema è che se capita una cosa del genere devi dire al volo, all'orchestra, riprendiamo da numero 36. E questa è la cosa che devi fare. E se stai dirigendo a memoria o hai memorizzato veramente bene anche i numeri oppure ti trovi in grossi, grossi guai. Sempre Barbieri-Siviglia, altra recita con una cantante, con una soprano molto brava, tra l'altro tedesca, bravissima. Se non fosse che durante il duetto con Figaro la scenografia le precipita addosso. Questa è una cosa che nelle tournée lunghe può succedere perché avvitando e svitando molte volte le scene magari qualche bullone resta un po' allentato o magari qualche scena di legno il buco dove c'è il bullone comincia a spanarsi un po' e quindi poi magari non tiene molto bene. Quindi questa povera ragazza, ripeto, bravissima, tra l'altro si sta a precipitare addosso la scena per fortuna la scena ovviamente era di carta peste, di compensato, adesso non saprei di che cosa, ma ovviamente la gira non si è fatta niente e lei, gran professionista, ha proseguito imperterrita. Altro problema di scene crollate Almaty in Kazakistan presso l'Opera House che è tratto un bellissimo teatro di tradizione con una grande orchestra e un teatro molto bello anche proprio esteticamente, architettonicamente molto bello. Facciamo questa recita di Bohème e nell'ultimo quadro c'era questa cancellata che scendeva dall'alto. Non so per quale ragione, evidentemente un cavo cede e la cancellata io non so di che materiale era fatto, ma non mi sembrava leggerissima, precipita sul palco facendo un rumore a parte del pianissimo in orchestra, facendo un rumore pazzesco, ma rischiando veramente di fare male a qualcuno perché non sono andato lì a sollevarlo ma dal rumore che ha fatto e dall'impatto che ha avuto col treno non mi dava l'impressione di essere fatta di carta pesta francamente. Per fortuna nessuno si è fatto male e ce la siamo cavata con un grosso spavento e basta. Ma nella stessa recita ci sono delle recite evidentemente che sono abbastanza sfortunate, succede un qualcosa di anche peggio per il direttore. Allora, normalmente Bohème si fa senza tagli per tradizione, perché i tagli in Puccini vengono sempre male, perché Puccini l'ha pensato in una certa maniera per cui tagliare delle cose in Puccini crea sempre dei problemi. Però, essendo io a dirigere presso un teatro d'opera, ovviamente è il direttore che deve adeguarsi a quelle che sono le abitudini dell'orchestra, se ci sono dei tagli dell'orchestra e dei cantanti che cantano presso quel teatro. Per cui, se ci sono dei tagli il direttore deve far si andrà bene i tagli, se ci sono delle modifiche deve far si andrà bene le modifiche e così via. Per cui mi propongono, mi propongono, mi dico, mi comunicano che c'è questo atto nel secondo quadro di Bohème che tra l'altro dal punto di vista scenico, direttoriale per i cantanti è veramente forse la parte più impegnativa dell'opera perché mille ingressi è facilissimo che qualcosa vada storto. Mi dicono c'è il taglio da qui a qui. Io, vabbè, non molto convinto ma ovviamente faccio un buon viso a cattivo gioco e prendo atto e dico va bene, me lo segno in partitura. Convinto come ero che fosse un taglio che loro facevano da sempre da cent'anni un taglio cosiddetto per loro di tradizione non nella nostra tradizione ma per loro di tradizione per cui vabbè me lo segno in partitura e via. Sennò che evidentemente quello tutto era fuori che un taglio di tradizione anzi ho saputo dopo che era un taglio che era stato inserito da poco per cui cos'è successo? Che metà dell'orchestra aveva delle altre parti in cui il taglio non era segnato e metà dell'orchestra aveva le parti col taglio probabilmente lo sapete nei teatri d'opera di stato diciamo così ci sono almeno tre organici orchestrali che si alternano e frequentemente succede che tu faccia le prove con dei musicisti e poi trovi degli altri musicisti una cosa che può sembrare assurda ma insomma nel sistema dei teatri di stato questa cosa è abbastanza normale per cui cosa è successo? E' carriato a quel punto io giro la pagina per fare il taglio che mi è stato comunicato peccato che metà dell'orchestra abbia fatto il taglio e l'altra metà no per cui vi lascio immaginare cosa è successo è successo quelle cose in cui veramente il direttore perde anni di vita perché poi in Puccini in realtà non esiste un compositore che se mischi due parti diverse sopra poi il risultato sia gradevole e funzioni vi lascio però immaginare cosa vuol dire in una scrittura così densa e anche con pieni di cambi di tempo di cambi di velocità come Puccini cosa vuol dire una roba del genere il disastro in un certo punto ho dovuto chiudere chiudere e dire riprendiamo dal numero 47 perché aveva la partitura sotto mano altro disastro Madame Butterfly all'aperto in una grande arena estiva a un certo punto più o meno a metà nella seconda metà del primo atto vanno via completamente le luci in buca per cui più o meno da bimba dagli occhi pieni di malia quindi mancano ancora un bel quarto d'ora 20 minuti alla fine alla fine dell'atto scompaiono completamente le luci in buca per cui sia io che l'orchestra ci troviamo completamente al buio se non le poche luci che possono arrivare dal palco o qualche cellulare acceso e così via insomma ma assolutamente nel buio la cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare è che nessuno nel reparto luci si è accorto di questa cosa e la cosa più straordinaria non è tanto che io diretto a memoria insomma alla fin fine è un'opera che conoscevo molto bene me lo potevo anche permettere ma la cosa più straordinaria è che l'orchestra è andata avanti a suonare a memoria al buio e di fronte a questi signori io mi tolgo e mi sono tolto non uno ma dieci cappelli ultimo disastro che vi racconto oggi traviata un tournée anche lì venti e passa recite in giro quindi comunque un'opera molto provata un'opera che tutti conoscono molto bene sia il direttore il cantante l'orchestra eccetera eccetera comunque fatte tante prove è tutto molto rodato ed eravamo tipo alla dodicesima replica di venti insomma qualcosa del genere quindi tutto abbastanza abbastanza liscio terzo atto il terzo atto si apre con Violetta che sta dormendo e Annina anche insomma qui hanno una breve conversazione c'è prima una parte strumentale un piccolo preludio al terzo atto per cui io ho l'ok dal direttore di scena e lì quindi c'è questa parte strumentale che dura circa due o tre minuti dopodiché il sipario si alza e ci sono lì Annina e Violetta per cui io faccio vado entro in scena parto col preludio e arrivo e arrivo alla fine il preludio fa e a questo punto si alza il sipario e Violetta non c'è quindi io non so veramente che cavolo fare anche perché il preludio il trazzato era finito cioè Annina Violetta deve cantare insomma e quindi se deve cantare Violetta e non hai Violetta in scena è un problema anche che fai anche lì perdi altri due anni di vita per questo che ho tutti questi capelli bianchi in realtà io ho 19 anni perdi altri due anni di vita e con la partitura dice adesso che rifacciamo adesso non mi ricordo se li ho fatto rifare da capo o se li ho fatto rifare da metà adesso non ricordo francamente insomma comunque rifacciamo il preludio del terzo atto e quando siamo nel suo punto vedo Violetta che Carponi sgattaiolando sta entrando in scena perché nel frattempo il sipario è rimasto aperto naturalmente insomma quindi lei per non farsi vedere perché avrebbe dovuto essere sul letto vedo insomma che gattona che arriva per cui io rallento al massimo rallento in una cosa in una maniera veramente che è ridicola o parossistica per darle il tempo fisico di arrivare di arrivare al che annina parte lei ebbene e poi quindi alla fine della recita si sale sono gli applausi saluto al pubblico vedo lei che scappa lei che scappa via e io che mi precipito con la bava alla bocca perché voglio sapere che cavolo che cavolo era successo perché non non era dove avrebbe dovuto essere insomma e lei in inglese lei è americana molto brava tra l'altro mi dice che aveva avuto improvvisamente un problema tipicamente femminile I got an accident mi ha detto ho avuto un incidente ma immaginatevi con la veste bianca e quindi era dovuta scappare via dal palco per cui io ho detto vabbè ok ho capito mi sono stati risparmiati i dettagli e ho detto vabbè cose che succedono per cui nell'opera succede anche questo bene spero che il video vi sia piaciuto se avete dei vostri disastri all'opera da raccontare scrivetemeli nei commenti perché può darsi che tra qualche mese ne faccio una raccolta e faccio un altro video di disastri all'opera anche se il problema di queste cose è che quelli della volta scorsa sono tratti da un libro famoso di John Vickers che si chiama disastri all'opera e va bene insomma ve li ho raccontati come fonte a quel libro lì questi qua che vi ho raccontato oggi sono assolutamente reali perché li ho vissuti in prima persona per esperienza so che poi di bocca in bocca questi episodi tendono un po' a trasformarsi molte volte è successo così e viene raccontato cos'ha per cui insomma cercherò comunque di fare una cernita dei disastri che doveste raccontarmi e magari tra qualche mese farò una vostra parte di disastri all'opera ci vediamo alla prossima grazie